Motore, partito, sequenza 5B, scena 4, bianca del pesantino. Tra questi muri ho dei bellissimi ricordi. Partito! Oh, ho detto partito! No, quel gatto lì no! Lo posso stracchiare un altro meno. No, a me piace già. Per la mia linista! Valentina De Luca, Claudio, di cui non ricordo il cognome. Cucu! Vabbè, va bene! Scusa! Ti devi stare là. È bello essere lei. No! Oh, c***o! Scusa! Di colucci! Sì, è vero! Il c***o è vero! Il c***o è vero! No, il c***o è vero! Bla 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 bla! Scusi Sì, è così! Sì! 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 Sì, è accelerata. Sì, ma poi è un appassionato rapo, niente da Mario! Mi preoccupate! Lo sai che cosa sei? Cosa? Sei l'ossessivo! Ah! Sei! Cosa sono? Ma che cosa fai di sé? Ma perché sei un litigato? Non lo so! Infatti, è proprio un brutto film! Nooo! Già ho brutte le cose già! Cosa è successo? Non riesco ad alzare! Aiutatemi! Oh! 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 Grande! C'è un buono dei barreti! Sì! No dai! No! No! Qui non ci deve restare! Eh questi rimani! Non so! Ma quanto è voluta la vita di Alessandro? Vedi qui? No, non mi piace! Ora scusa ma questa ascella un po' pezza stava in mano! Speriamo di portarlo a termine, anzi sicuramente ce la faremo a farcela.